A fare da contorno alla terza tappa del 68esimo Giro d'Italia, arrivata a Pinzolo domenica 19 maggio, l'organizzazione, in collaborazione con il Motoclub Rendina e l'azienda autonoma di soggiorno, ha invitato il gruppo Model Club di Mantova, che nel piazzale Attiguo, allo stadio del ghiaccio, ha allestito un vero e proprio gran premio automobilistico in miniatura. Il numeroso pubblico che ha fatto la cornice alla minigara ha potuto ammirare con quanta bravura e passione questi partiti di automobilismo in scala ridotta partecipano a queste competizioni di club, che mettono a dura prova soluzioni tecniche preparate con ore e ore di lavoro. Una vera e propria gara in miniatura, con un circuito non meno impegnativo dei gran premi disputati da marche famose come Ferrari, Lotus, Renault, di cui queste piccole imitazioni realizzate in scala 1 e 8 ne imitano i minimi particolari. Un tracciato delimitato da un gran numero di vecchi copertoni di automobile, un palco sopraelevato da dove i piloti possono telecomandare i loro gioielli. Sono un po' gli ingredienti che assieme alle piccole automobili hanno dato spettacolo, dandoci per un attimo l'impressione di assistere a un gran premio nei panni di tanti Gulliver. Ma assistiamo più di vicino alla gara. I nomi dei piloti sono forse meno famosi dei vari Alboreto, Prost e Senna. Si chiamano più semplicemente Gianni, Andrea e Giovanni, ma... ed altri. Ma non per questo il loro impegno è da meno. Ultimi ritocchi ai box. I motori sono un po' delicati, sviluppano una potenza di 35 centimetri cubici e con il loro cavallo e più di potenza raggiungono i 27.000 giri. E' quindi necessaria una messa a punto molto precisa. E si è pronti al via. Dopo i primi mugiti iniziali, i piccoli mostri scaricano sull'asfalto tutta la loro potenza, raggiungendo velocità superiori ai 120 km all'ora. Le sospensioni a pianale rigido permettono loro una buona tenuta, anche se a volte gli incidenti sono inevitabili. Scorrettezze e malizie sono anche qui, di casa. A spingere nella loro folle corsa è un'esplosiva miscela a base di idrometano, alcol etilico e, perché no, anche di qualche goccia di olio di ricino. Forse per andare più in scioltezza. I costi dalle 400.000 al milione, per un hobby forse non meno, non proprio popolarissimo, ma sicuramente bello e spettacolare. Al termine, premi per tutti, anche se, visti i costi, con il primo premio si potrà a malapena sostituire la ruota anteriore. Grazie!